Colpo di scena al Tribunale di Venezia per l'assegnazione delle quote TEAM detenute dalla società Enertec. È stata infatti presentata una richiesta di concordato fallimentare per l'intera Enertec da parte di un altro imprenditore che supererebbe l'offerta del terramano Franco Iachini, quasi certo di subentrare. A metà aprile la decisione del Tribunale, per il momento tanta incertezza per il futuro della terramambiente. È stata presentata una domanda di concordato fallimentare da parte di un'impresa, non so chi, di qualche soggetto, la quale se accolta sospenderà la gara della procedura competitiva di cui io sono stato il promotore e sono in questo momento l'unico in corsa per l'acquisizione delle azioni TEAM. La procedura fallimentare comporta invece l'acquisto di tutti gli asset dell'azienda, quindi infatti si ricompra l'intera Enertec, naturalmente ha dei costi più rilevanti ed è una procedura che comunque dovrà essere esaminata, cosa che sta già facendo il curatore in questo momento negli aspetti sia economici sia meritocratici dell'offerente e delle tempistiche che propongono per il pagamento della curatela. Lei ha fatto un accesso agli atti? Sì, i miei legali hanno fatto una richiesta di accesso agli atti per avere le informazioni specifiche a riguardo che naturalmente il curatore non è tenuto a darcelo in questo momento, se non in maniera sommaria, è per poter capire bene qual è la proposta. Naturalmente questo non pregiudica un mio eventuale interessamento al concordato fallimentare perché l'avevo già escluso inizialmente, io già a novembre ero partito con questa mia richiesta, quindi se a novembre fosse stata accolta da subito, partiva da subito la gara, a gennaio credo che la Teama già aveva avuto un nuovo assetto. Io mi immaginavo il mio film dentro la Teama, ci avevo già iniziato a pensare, dopo che ho presentato la domanda avevo già delle idee, volevo trasformare questa azienda, da rilanciare, non trasformare, per carità, perché l'azienda sicuramente per quello che fa deve continuarlo a fare, farlo meglio, questo è poco ma è sicuro perché sicuramente ci sono delle sacche da eliminare, credo che questa azienda possa avere delle basi per poter realizzare servizi tipo sparsiti, IoT, distribuzione e tant'altro. Ma non è detta l'ultima parola? Aspetteremo il giudice, certo se quella del Tribunale sarà andiamo avanti con la procedura fallimentare, è l'ultima parola.